Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove adesso ci sono 6 km di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In FIPILI 2 km di coda per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia a scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonteblanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla strada regionale 69 di Valdarno per lavori urgenti senso unico alternato nel tratto compreso tra i km 25,370 e 25,400 nel comune di Figline incisa Valdarno. Nuoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!